Ehi, Darwin! Che cosa tendrebbe di fare adesso, amico mio bello? No, Darwin! Non possiamo metterci ad invadere la Scandinavia! Però che ne dici se invece usciamo un po'? Dobbiamo sfruttare questa bella giornata! Hahaha! Sì, davvero molto divertente, Darwin! Forza, andiamo! Ehi, Anaïs! Che cosa state facendo? Anaïs? Anaïs? Che c'è? Mi vuoi dire che cosa state facendo? Niente! Forte! Ah, mamma, noi stiamo uscendo! Possiamo, vero? No! Ma dai, perché no? Perché no? Brutta stronza del cazzo! Sono libero! Colpo di scena? Ciao! 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 Grazie a tutti.